Pazzo! Ellie! Lula! L'ho fatto! Pocoyo! Ciao Pocoyo! Ciao! Ma guarda, delle costruzioni! È la giornata ideale per giocarci! Ecco delle altre costruzioni! Avete visto? Forse non era niente! Ok, stavolta ho proprio visto qualcosa! Qualcuno sa dire a Pocoyo cos'è successo quando si è messo a canticchiare? Le costruzioni ci sono mosse! Accidenti! Guardate come si muovono! Beh, direi proprio che non sono costruzioni normali! Adorano la musica, non è vero? Queste costruzioni hanno proprio il senso del ritmo! Non trovate? E quando si fa silenzio smettono di muoversi! Oh, che idea grandiosa! Vediamo cosa succede suonando diversi generi di musica! Il rock'n'roll! Oh, sì! Oh, la musica jazz! La mia preferita, Pocoyo! Ah, la musica classica! Che suono imponente! Ehm, Pocoyo! eh pato pato sta ecco okoyou devi aiutare pato a scendere è bloccato in cima alle costruzioni basta musica okoyou sei proprio sicuro che sia la soluzione giusta ricordi cosa succede quando si ferma la musica poco yo qualcuno può aiutare poco yo vi ricordate cosa succede quando la musica si ferma le costruzioni cadono cadono tutte giù già e se cadono le costruzioni cade anche pato poco yo svelto come puoi salire lassù a salvare pato certo il famush salverà la situazione il famush salverà bravo ben salvataggio poco yo bravo caspita che avventura la musica è davvero meravigliosa vero evviva la musica evviva poco yo ciao ciao alla prossima ciao ciao alla prossima ciao 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 un momento stai per dipingere un quadro oh ma che meraviglia ma poco yo cosa hai in mente di dipingere oggi amici amici che idea stupenda e chi dovrebbe dipingere chi dovrebbe dipingere dipinge lula lula ottima idea sono certo che lula sarà una modella perfetta non ti muovere ah è il colore perfetto per lula non ti muovere non ti muovere lula 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 beh non prendertela poco yo puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici poco yo dipinge elli oh elli hai scelto proprio una bella posa per il tuo quadro elli per favore non muoverti elli 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 non muoverti temo che oggi elli sia troppo agita perché tu possa farle il ritratto poco io ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere poco io dipinge pato poco io dipinge pato mmm questa sì che è una posa interessante ti verrà certo un ritratto straordinario oh no oh povero pato e dire che ci ha provato a rimanere fermo per te poco io poco io dove stai andando qualcosa non va oh ci sono non sei soddisfatto di come sono andate le cose ma poco io diamo un'occhiata al tuo dipinto no oh andiamo poco io solo una sbirciatina no forse potete aiutarmi voi bambini chiedete a poco io se ci mostra il dipinto se davvero volete vederlo forse ci accontenterà forza provate a chiederglielo mostraci il quadro per favore oh è stupendo poco io guardate l'arancione rappresenta lula il rosa elli e quella strana forma è indicappato visto visto poco io sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello evviva poco io ciao ciao alla prossima lula ruffo poco io poco io poco io ah ecco il nostro amico poco io ciao poco io ciao ciao qualcuno sa dirmi con cosa gioca elli una bambola bambola eh sì è la bambola preferita di elli bambola 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 secondo me secondo me elli vuole che tu ti occupi un attimo della sua bambola poco io bambola 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 n Pocoyo, cosa stai facendo? Pocoyo, forse non dovresti lanciare in aria la bambola di Ellie Su, su, Pocoyo, calmati! Devi raccontare a Ellie cos'è successo Forse all'inizio se la prenderà un po' ma poi ti perdonerà Ellie! Ellie, eccoti qui! Senti, Ellie, riguardo alla tua bambola Sì, ecco, o cielo! Pocoyo, credo che tu debba dire a Ellie cos'è successo C'est un po' ma poi, ch'echec'è successo oh guardate c'è Pato oh cos'era? stop! ehm è lì? Pato? c'è qualcosa che dovreste sapere e adesso che farai Pocoyo? bambini potete aiutare Pocoyo a far sì che Ellie si senta meglio? cosa deve dirle? Pocoyo chiedi scusa scusa Ellie dimmi Pocoyo guardandoti indietro non sei d'accordo che sarebbe stato meglio dire subito la verità? salute Pocoyo è sempre meglio dire la verità agli amici evviva Pocoyo ciao ciao alla prossima Pato Ellie ecco Pocoyo ecco Pocoyo Pato e Ellie ciao a tutti ciao ah un baule pieno di costumi allora cosa pensate di fare oggi? qualcuno di voi lo sa? si mascherano! si mascherano! oh si! ottima idea storia! storia! come dici? vuoi che vi racconti una storia e voi fincherete di essere i personaggi? oh sarà uno spasso posso dire in tutta sincerità di essere piuttosto bravo a raccontare storie Forza, preparatevi C'era una volta un regno lontano dove abitava un giovane principe coraggioso Oh cielo! Aspettate, calma, calma, calma Il principe è quello con la corona Qualcuno sa dirmi quale dei nostri amici è il principe? Pocoyo! Sì, è Pocoyo Spiacente ragazzi Allora, dove ero rimasto? Ah sì, questo giovane principe si chiamava Pocoyo Evviva! Era molto coraggioso E affascinante E forte Oh, e anche alto, certo, sì Ma il principe non era solo nel suo regno Oh no! C'era anche una bellissima principessa elefante che aveva... Eh, no, 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 niente uccelli Grazie, era un fottino Grazie Dicevo La principessa era la creatura più dolce e incantevole dell'universo Così delicata e bella E... E... Forte Beh, ecco, davvero notevole Ellie Però non è proprio la storia che pensavo di raccontare Comunque una principessa che fa sollevamento pesi funziona lo stesso A che punto eravamo? Ah, sì, sì Questa fine e delicata principessa elefante Amava il principe E il principe amava lei Ah, non è male come storia, dopo tutto Tuttavia lei era terribilmente triste Perché non poteva uscire a giocare con il principe Eh, a causa di un'anatra folle che me lo impediva Era un essere crudele e folle... Oh, su, andiamo, Pato In teoria sei tu il cattivo Ascolta Ti prometto che farai il principe la prossima volta, ok? Per favore Te lo prometto Bene Allora Quest'anatra folle Era davvero crudele E fuori di testa Ehm Fai più il matto? Di più! Fai ancora più il matto, Pato! Così sei perfetto Grazie, Pato Dicevo Un giorno vedendo avvicinarsi il giovane principe L'anatra decise di cacciarlo via per sempre Spaventandolo con un terribile e feroce drago sputafuoco Sì Il drago saltò addosso al principe e si mise a... Baciarlo Per bacco Comunque sia, la folle anatra si infuriò così tanto che mandò all'attacco il suo miglior guerriero Il cavaliere addormentato e il suo terribile esercito Ancora tu, Ronfottino Stavolta il principe Pocoyo era circondato senza vie di fuga Cosa poteva fare? Invitarli tutti a fare un picnic? Perché l'avrò chiesto? E a dormire nel suo letto? Ma la folle anatra era davvero furiosa con lui Così tanto che... Iniziò ad annaffiargli le piante E la principessa elefante si mise a correre sul suo monopattino E lì, e lì, e lì ma non è... Mentre il principe giocava con la sua macchina E la folle anatra si comprava un canarino E... E... Oh, un attimo Adesso ci sono Sì C'era una volta un gruppo di grandi amici Che adoravano giocare insieme Evviva! Che storia meravigliosa Sì, sì, sì Evviva le storie! Sì Evviva Pocoyo! Sì Ciao ciao, alla prossima! Ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.